Sì, ne abbiamo vittime per una mattinatura a due di bandiere, quindi ci vi chiediamo un applauso. E voi mi riferite di questi tanti, con i lavori che ci avete raccontato, vi avete emozionato, e vi abbiamo finito in questo giorno di scuola, grazie a voi e alle vostre maestri e a tutta l'organizzazione di questa giornata. Quindi ora facciamo la consegna ufficiale della bandiera, vorrei tutte le insegnanti qui vicino a me, perché naturalmente la Delia, la Maria Giovanna, dov'è? Maria Giovanna? Non la vedo. Ecco, la Maria Giovanna.